Cari telespettatori siamo di nuovo in diretta per Primo Cittadino, questa sera torniamo ad ospitare il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli. Buonasera e bentornato nei nostri studi sindaco. Grazie direttore, grazie dell'invito. Ricordiamo i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33, potete inviare anche un messaggio, meglio se su whatsapp, al 338 49 68 250. Partiamo dal patrono che è stato celebrato proprio ieri, San Costanzo Martire, una giornata come sempre molto sentita e anche molto partecipata. Quest'anno in maniera particolare perché, vabbè, oltre a capitare di domenica, che non capita spesso ed è un momento in cui sicuramente molti più cittadini riescono a partecipare a questa celebrazione fortemente sentita da tutta la comunità, beh, ieri è stato l'ultimo patrono celebrato da Sua Eccellenza Monsignor Armando Trasarti, un vescovo che tutti amiamo tantissimo e ecco, alla fine della celebrazione eucaristica, ecco, mi sono permesso a nome di tutta la grande comunità di San Costanzo di salutarlo e di ringraziarlo veramente per questo grandissimo lavoro che ha fatto in tutti questi anni, gli ho detto che ci mancherà, gli ho detto che ci mancheranno le sue bellissime omelie che arrivano sempre al cuore perché sono fatte di parole semplici e di esempi sempre riportati nel quotidiano e a nome di tutta la comunità gli ho fatto un dono, gli ho donato un album fotografico che ritrae tantissime famiglie della nostra comunità e lui sfogliando questo album fotografico potrà rivederci un po' tutti, è stata veramente una celebrazione molto toccante ed è stato, guarda, toccante anche poi fare il pranzo della comunità perché anche quello ha avuto due anni di sospensione, è una tradizione dopo la festa del Santo Patrono riunirsi tutti insieme, per questo ringrazio di cuore la parrocchia per l'avere organizzato insieme alla Proloco di San Costanzo, grazie di cuore perché era un momento veramente che ci mancava, quello di ritrovarci tutti insieme Immagino, sono veramente tanti anche i volontari, le persone che si mettono a disposizione della comunità, poi nel corso di questa diretta faremo vedere anche qualche fotografia, racconteremo qualche aneddoto A proposito di comunità, Sindaco, il prossimo anno si torna alle urne, intanto vi chiedo, si ricandiderà? Ma guarda, l'entusiasmo c'è, la voglia c'è di ricandidarmi, quindi a botta calda direi di sì, però bisogna anche ammettere che nella vita insomma ci possono essere tante cose Mai dire mai Mai dire mai, però se me lo chiedi oggi ti dico di sì Però in questo periodo avete continuato a confrontarvi con i cittadini e fare i tour nelle frazioni, quali sono le opinioni, le sensazioni che avete riscontrato? Grazie per questa domanda, perché ne parlavamo proprio ieri anche con il Vescovo, lui ci ha detto bisogna impegnarsi a diventare esperti di incontro E lui ha perfettamente ragione, perché si dà fin troppa dignità a strumenti, a piattaforme, come può essere, ne dico una su tutte, Facebook Per confrontarsi, quelli non sono i luoghi giusti, non bisogna dare dignità a quei luoghi lì, perché sono da altre parti I luoghi dove, cari concittadini, possiamo darvi delle risposte, innanzitutto dentro il comune E per far questo noi lo scorso anno, insomma pochissime settimane fa, in ottobre abbiamo fatto un tour di 5 date In cui siamo andati nel territorio e dopo un piccolissimo saluto iniziale invece abbiamo voluto ascoltare quello che i cittadini ci hanno voluto dire Lasciando loro anche un opuscolo, un libretto dove si vince che nonostante il Covid, nonostante tantissime cose non belle Insomma che sono capitate da quando questa nuova maggioranza si è insediata, comunque siamo riusciti a portare a casa quasi il 65% del programma elettorale Mi dicevi quali sono le cose più sentite dai cittadini? Sicuramente la sicurezza, sicuramente la tenuta del territorio, la tenuta delle strade Ma su questo fra poco avrò cose molto importanti da dire e da annunciarvi Partiamo allora dal bilancio di previsioni 2023-2025 che è stato approvato dal Consiglio Comunale Avete approvato anche il DUP, il documento unico di programmazione, le aliquote rimarranno invariate? Le aliquote rimarranno assolutamente invariate nonostante l'aumento dei prezzi a 360 gradi In modo particolare nei computi metrici e nei progetti che siamo dovuti andare a ritoccare Come valori del quadro economico finale, proprio perché come sapete tutti ci sono stati degli aumenti molto importanti Importante è stato anche farlo quel Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2023 È stato uno sforzo, siamo andati in Consiglio il 29 di dicembre Ringrazio tutti, in modo particolare i consiglieri comunali e gli uffici In modo particolare la ragioneria perché è il terzo anno di fila che noi riusciamo a portare il bilancio di previsione Nonostante lo Stato dia la possibilità di approvarlo entro il 30 aprile Ma è molto importante perché fin dal 1 gennaio tutti gli uffici, tutti i responsabili Possono usare a pieno i capitoli di bilancio che la Giunta gli ha affidato Non utilizzandoli in dodicesimi Insomma comunque entro il 31-12-2023 saranno veramente tanti i cantieri che si apriranno Partiamo dall'efficientamento energetico della pubblica illuminazione Che cosa è previsto? E allora innanzitutto parliamo del quadro economico che è di 1.360.000 euro È l'efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione e di tutto il comune di San Costanzo Qui vediamo un palo della luce stradale Tra l'altro è molto simile se non uguale ai pali di via Vittorio Veneto a Cerasa Che pochi giorni fa intanto siamo riusciti a cambiare Ad implementare con un altro contributo statale di 50.000 euro Ma invece in questo 1.360.000 euro Praticamente in tutti i pali stradali, di strade comunali, di strade provinciali Ma anche di quelle lottizzazioni che grazie ai collaudi sono già passate all'amministrazione comunale Ci sarà il cambio del classico corpo illuminante con il corpo illuminante a led In alcuni casi ci sarà anche la sostituzione dei pali dove ammalorati E questa è proprio la fotografia dell'attuale situazione della pubblica illuminazione Tutti i pali verranno cambiati Si tratta di un progetto di 1.360.000 euro Che fra pochi giorni arriverà alla stazione unica appaltante della provincia di Pesaro Urbino Fatta la gara, individuata la ditta Noi ci auguriamo, siamo abbastanza sicuri in questo Insomma, di poter cominciare i lavori in questo secondo semestre Si faranno anche aggiunte di nuovi pali Questo lo si deciderà in base anche al ribasso d'asta Perché come sapete quando si va in gara Sicuramente la fa da padrone Insomma la qualità anche del progetto che viene presentato Ma anche l'offerta economica Quindi il ribasso verrà in parte utilizzato anche per nuovi punti luce Una cosa molto importante perché chiaramente questo si pone sia Su un piano di sicurezza stradale ed urbana Perché è un tipo di irradiazione della luce molto più efficace sulle strade Ma anche per il risparmio che avremo sui conti del bilancio comunale Per questo non abbiamo voluto procedere con il project financing Ma finanziarlo con un nostro mutuo di cassa depositi e prestiti Sì, allora intanto le scrivono Grande sindaco sei il migliore Poi iniziamo anche a leggere le altre domande Perché a proposito di efficientamento energetico Ci sarà anche un efficientamento del teatro Perché avete vinto un bando legato al PNRR Sì, sono molto orgoglioso di questa cosa Perché la Giunta e gli uffici hanno lavorato a quattro progetti PNRR Si tratta della mensa scolastica Si tratta dell'efficientamento energetico del teatro Si tratta del bando borghi A cui potevano partecipare i comuni sotto i cinque abilabitanti Ma anche ad un bando del Ministero dell'Ambiente Per la meccanizzazione e la raccolta di rifiuti Di quattro, uno, siamo riusciti fortunatamente a vincerlo Per 342 mila euro Di cui 250 mila euro con fondi PNRR E 92 mila euro invece da fondi comunali Da bilancio comunale In pratica, in teatro cosa faremo? Non sarà possibile fare il cappotto Adesso ormai siamo tutti esperti di efficientamento energetico Grazie a questo 110 Non sarà possibile fare il cappotto perché è un immobile vincolato Ma faremo una nuova centrale termica Sarà fatto il riscaldamento a pavimento Lì in platea dove oggi c'è un bellissimo pavimento in ceramica Verrà fatto il riscaldamento a pavimento E poi verrà insalito sopra un pavimento in rover In legno E questo donerà ancora migliore acustica al nostro bellissimo teatro Ma poi ecco, il risparmio energetico non si avrà solo sul calore Ma anche sull'illuminazione Perché avremo l'illuminazione a led all'interno di tutto il teatro Ed è in corso la progettazione esecutiva dei lavori? No, i lavori sono stati già appaltati ad un'azienda Quindi per le tempistiche? Beh, ai primi di marzo dovrebbe cominciare l'azienda Perché abbiamo infatti a questo proposito programmato la stagione teatrale Fino al 28 di febbraio per poi consentire all'azienda Che ha vinto l'appalto di poter cominciare i lavori E poterci ridare il teatro Noi ci auguriamo entro ottobre di quest'anno Buonasera, le scrivo Non volevo sapere se verranno distribuiti i bidoni Per la raccolta della plastica alle aziende Che non riescono ad usufruire dei nuovi bidoni Che sono stati installati Facciamo un attimo un passo indietro Perché c'è stata una rivoluzione appunto nella raccolta dei rifiuti Abbiamo anche in questo caso delle immagini Ecco, isole ecologiche con cassonetti ad accesso controllato Con una tessera o mediante un'app Ci sono state anche delle polemiche Però come ha replicato anche Aset nelle scorse settimane All'inizio un attimo un tempo necessario per il rodaggio è dovuto Bisogna un attimino verificare tutto quello che va Tutto quello che c'è da migliorare E poi insomma si parte sperando che possa andare nel modo migliore Assolutamente Arrivo poi anche alla domanda del cittadino Del commerciante, dell'artigiano sulle grandi utenze Beh sì, dai primi di dicembre abbiamo iniziato a sostituire i nostri cassonetti Con degli cassonetti ad accesso controllato tramite tessera o tramite app In pratica tutti i cassonetti stradali si possono aprire solamente attraverso queste due cose Quindi la tessera piuttosto che l'app Per tutti i tipi di rifiuti Per tutti i tipi di rifiuti È stato fatto un grandissimo passo avanti secondo me In modo particolare per il cassonetto dell'umido Perché è veramente a prova di vento, a prova di gatto È stato fatto un grandissimo lavoro Anche sul vetro non c'è più la campana Ma qual è il senso, qual è la razio Abbiamo visto negli anni che San Costanzo con questo tipo di sistema di raccolta differenziata Quindi non porta a porta ma raccolta stradale con cassonetti stradali al 100% Ha sempre oscillato su delle buonissime percentuali di raccolta differenziata Che si aggirano tra il 76 e l'80% Questo già da dieci anni Quindi sono dei risultati che noi leggiamo da tanto tempo Questo quindi non ci ha fatto tornare indietro Su un altro tipo di raccolta differenziata Che è quello del porta a porta Ma invece ci ha fatto investire di più in tecnologia Perché tutti i cassonetti in questo modo possono mandare dei dati E possono farci capire sicuramente quali sono gli utenti che fanno una miglior raccolta differenziata E soprattutto ecco i cassonetti sono apribili solo dai cittadini di San Costanzo I dati sono molto importanti anche perché prima o poi passeremo da tassa a tariffa E quindi con questo sistema saremo pronti Perché pesa il rifiuto non in chili ma volumetricamente Ma anche perché grazie a un po' ai dati di questa raccolta differenziata I dati che ogni giorno spediscono i cassonetti Grazie all'app o grazie alla tesserina Vogliamo trovare il modo di dare una premialità a quelle famiglie A quegli utenti che fanno la migliore Ai più virtuosi quindi Ai virtuosi, la migliore raccolta differenziata La nostra idea è quella di dare dei buoni spesa Spendibili solo all'interno del territorio comunale Sappiamo che ci sono stati alcuni disagi Dovuti al fatto che qualsiasi tipo di servizio nuovo che viene implementato A dei tempi di registrazione che vanno un pochettino tenuti sotto controllo Ma dai primi di dicembre noi abbiamo costantemente sul territorio comunale I tecnici dell'ASET L'assessore Stefano Giraldi, l'assessore all'ambiente Tutte le settimane ha degli appuntamenti Incontra i cittadini che fanno segnalazioni Segnalazioni che invito a fare anche tramite il numero verde Che trovano o sul cassonetto o sulla tesserina O meglio ancora per chi ha scaricato l'app Quello è veramente un filo diretto con ASET Sappiamo che ci sono stati dei disagi Ma sono strassicuro veramente Che tutto tornerà in funzione al 100% Ma già funziona tutto quanto Il problema era all'inizio Ma il problema è stato soprattutto durante le vacanze di Natale Perché ahimè ci siamo accorti Che ci sono state 5 manumissioni dei cassonetti Alcune sicuramente chiamiamole così dolose Che sono sotto l'attenzione dell'amministrazione Sotto l'attenzione della polizia municipale Se continueranno insomma ci sarà anche un'informativa Verso i carabinieri Il cittadino che chiedeva delle grandi utenze Delle aziende Per loro in questo momento non è cambiato nulla Perché se già avevano la raccolta della carta Piuttosto che della plastica Presso la propria azienda Presso il proprio negozio In questo momento non cambia assolutamente niente Se c'è la necessità di aggiungere altri cassonetti Ci si mette in contatto direttamente O con ASET o con il comune di San Costanzo Quindi assolutamente non ci saranno problemi Le chiedo un veloce botta e risposta Perché abbiamo già diversi messaggi Così cerchiamo di rispondere a tutti Sono residenti di via della chiusa Visto che ha detto che aumenterete i pali della luce Servono anche in via della chiusa In via tombe e via tuffi Anche per aumentare la sicurezza Quindi se fosse possibile Accontentare anche questi residenti E poi vorrei sapere Quando riaprirà il centro sociale a Cerasa Innanzitutto per quanto riguarda i pali Sì vi ho detto che ci sarà la possibilità Di aggiungerne altri Grazie al ribasso d'asta Ma anche grazie insomma al bilancio comunale Che sicuramente lo permetterà Ho segnato i pali Insomma grazie per la segnalazione Ho segnato le vie che saranno poste sotto attenzione Il centro sociale verrà gestito dal comune di San Costanzo Stiamo attendendo la fine insomma Di una pratica sulla sicurezza Che si sta completando Sono veramente pochissimi giorni Nel frattempo siamo già usciti con le tariffe Le abbiamo approvate all'ultimo consiglio comunale Sono all'interno del DUP Abbiamo già le tariffe sia per i residenti Per i non residenti Con utilizzo di cucina e senza utilizzo di cucina Sicuramente entro la fine del mese Riusciremo a mettere a disposizione Di chi vuole prenotare quel centro sociale Così importante per tutti i cittadini A chi ne farà richiesta Lasciando sempre spalancata però Questo ci tengo a dirlo La porta alla gestione da parte Delle associazioni di Cerasa Per me questo è una cosa molto importante Speriamo di riuscirci Sicuramente gli attuali costi dell'energia Hanno pesato molto su questa cosa Ci stanno scrivendo anche per le asfaltature Tra poco vado a leggere il vostro messaggio Abbiamo parlato di sicurezza Quindi le volevo chiedere anche delle novità Che riguardano la polizia municipale Assolutamente Perché dal primo gennaio Siamo entrati all'interno dell'associazione Per la polizia municipale Media Valcesano Di questa associazione faceva già parte Mondavio, San Lorenzo in Campo e Monteporzio Dal primo di gennaio c'è anche San Costanzo Che mette a disposizione il vice commissario Andrea Rovinelli Che è già diventato dal primo gennaio Il comandante della polizia municipale Di tutta questa associazione Ma è in pianta organica All'interno del comune di San Costanzo Questa scelta è stata fatta perché Intanto collaboriamo bene con queste amministrazioni In più perché dal primo gennaio Passiamo a nove agenti sparsi Su questo territorio formato da quattro comuni E con i due agenti della polizia municipale Che il comune di San Costanzo Quest'anno sarà in grado di assumere Aumenteremo, arriveremo ad 11 Ma in più anche perché Riusciremo ad avere anche la pattuglia pomeridiana Formata da due agenti Quindi non solo alla mattina Ma anche il pomeriggio A giorni alternati Dal lunedì al sabato Una bella notizia Buonasera I residenti di via San Cristoforo Chiedono la possibilità di asfaltare La via che si trova in pessime condizioni Ed è impercorribile con le auto Ci sono progetti in merito Quindi a questo punto le chiedo Sia i vari progetti Il piano di asfaltature Che questa via in particolare Via San Cristoforo Anche qui mi segno questo appunto Ma è un appunto che già conosco Via San Cristoforo Non è una strada comunale Quindi stiamo cercando di capire Quali possono essere le soluzioni Anche in collaborazione con quei residenti Per poter intervenire Per quanto riguarda invece gli asfalti L'anno scorso abbiamo stanziato 120.000 euro Per l'asfaltatura di via Breccioncino E due tratti di via Parrocchia Vecchia Questi lavori sono stati appaltati Non siamo riusciti ad effettuarli Lo scorso anno A fine anno Ma riusciremo sicuramente a farli Entro marzo E ripeto Questi erano asfalti Che dovevano essere fatti Nel 2022 Nel 2023 Sicuramente faremo Altri asfalti L'ufficio tecnico Lavorerà al progetto Per nuovi asfalti Sia per l'anno 2023 Che per l'anno 2024 E questi nuovi asfalti Saranno da finanziare Con l'avanzo di amministrazione Quindi l'ente di ingrandimento Di questa amministrazione Verso le strade comunali Assolutamente sì Andiamo avanti con il marciapiede Però hanno telefonato Le chiedono per la strada di mezzo C'è la strada rotta E anche una buca pericolosa Gli alberi sono secchi E quindi è da tagliare Prevista qualche illuminazione Tutto ciò che riguarda Strada di mezzo insomma Sì allora Via strada di mezzo Lo sapete È una strada a metà Per questo si chiama così Lato nord È sotto il comune Di San Costanzo Lato sud Un pezzo è sotto Il comune di Mondolfo Un pezzo è sotto Il comune di Fanno Spesso interveniamo insieme Ad esempio Su via strada di mezzo Un'asfaltatura Quest'anno è stata fatta Dal comune di San Costanzo Anche se sul territorio Di Mondolfo Per questi accordi Che ci sono Tra due amministrazioni Amiche Sicuramente E l'illuminazione In strada di mezzo Arriverà sicuramente Anche con qualche Implementazione Poi non so Se mi sfugge Qualche altra domanda No in questo caso Si è applicato Per la buca pericolosa Agli alberi Buca pericolosa Non so se sul verde Verremo a verificare Sicuramente Dicevamo Marciapiedi Andiamo in via San Fortunato Dovremmo avere anche Una foto Per questo intervento Questo è Stacciola In realtà E questo sì Questi sono i lavori Di via San Fortunato Stiamo Eseguendo Marciapiedi Per 183 mila euro In via San Fortunato E per un pezzo Anche in via Garibaldi I lavori sono partiti Come vedete Sono dei marciapiedi Molto utili Che diciamo Si collegano A dei marciapiedi Già esistenti In via San Fortunato Ma in questo caso Riusciremo ad arrivare Con questi marciapiedi Proprio quasi In prossimità Del campus scolastico Questo è molto importante Per la messa in sicurezza Dei pedoni E in questo caso Mi riferisco In maniera particolare Ai più piccoli Nostri E con cittadini Con questo intervento Andremo a mettere In sicurezza Anche un pezzo Di marciapiedi Di carreggiata In realtà Andremo a sistemare La carreggiata Di via Garibaldi Sempre sui marciapiedi Vorrei dire Direttore Se è possibile Continuare Ci mancherebbe Assolutamente sì Su questa cosa Così Su questa cosa Così importante Che verranno realizzati Dei marciapiedi Su via strada Mondolfo Questi marciapiedi Si collegheranno Con via Martiri Della Resistenza E poi dall'altra parte Della strada Si troverà Il marciapiede Di cui facevo appena riferimento Quello di via San Fortunato Anche qua Con particolare attenzione Per la messa in sicurezza Dei pedoni Soprattutto dei più piccoli Quindi per intendersi Quindi per intendersi Anche quei residenti Che abitano In quella zona Particolarmente abitata Di via 25 Aprile In questo caso Potranno utilizzare Il marciapiede Di via strada Mondolfo Per arrivare In sicurezza Fino al campus Scolastico Quindi fino ai pressi Del centro Non ci siamo Dimenticati Di Cerasa L'ho detto Già In diversi incontri Anche fatti Sul posto E' già in corso La progettazione Dei marciapiedi Anche per L'importantissima Frazione Di Cerasa Quindi spero Di potervi dare Contezza Il prima possibile Anche su questo Altri messaggi Ottimo sindaco Nonostante i tempi Veramente complicati Siete sempre vicini Ai vostri concittadini Poi le chiedono Quando arriveranno I fondi regionali Per il terremoto Se ha qualche notizia Su questo E in via Puglia Se si può installare Il contenitore Del vetro Quindi forse Questa è una richiesta Che si potrebbe Dirottare Ad Aset E poi I fondi regionali Per il terremoto Allora Via Puglia Il vetro Lo verifichiamo Sicuramente Anzi Chiedo all'assessore Giraldi Di prendere Già nota Beh Fondi del terremoto Allora A fronte Di quell'evento Sismico Così recente La nostra Comunità Diciamo Non ha avuto Danni Importanti Negli edifici Pubblici Però purtroppo Una famiglia È stata Sfollata È stata Sfollata Chiamato Insomma Il 115 I pompieri Sono venuti A fare il sopralluogo E in questo momento Questa famiglia E ecco Gode Insomma Del supporto Della rete Della rete Familiare Noi abbiamo Messo in contatto Diciamo Il progettista Della Della famiglia Che chiaramente Ha messo In moto Il proprio Geometra Di fiducia Con il nostro Ufficio tecnico Gli abbiamo Anche fornito Diciamo La documentazione Che serve Per Richiedere I fondi Alla regione Nelle prossime ore Seguirò Ulteriormente Questa vicenda Di questa famiglia Che ecco Confidiamo Tutti che possa Rientrare Il prima possibile A casa Sperando Anche in qualche Aiuto A livello Regionale Statale Chiaramente Poi chiaramente La regione Spesso filtra Anche Degli Aiuti statali Degli aiuti Governativi Sindaco Mi dicono Che ci dobbiamo Fermare Per qualche istante Di pubblicità Io continuo A leggere I vostri messaggi E poi Torneremo In diretta Tra pochissimo Bene Bentornati In diretta Prima di passare Gli altri lavori pubblici Chiedevano Per via Roma Via Brecioncino Che tra l'altro Diceva anche prima In marciapiedi A Santa Croce E anche in Viale Vittorio Veneto Pure per l'illuminazione Quindi marciapiedi E illuminazione Non so se Via Roma Via Roma ci è ben presente Lo stato Lo stato di via Roma Quindi come ho detto Anche poi Ad alcuni cittadini Che mi sono venuti A trovare Pensiamo insomma Che con gli asfalti Del 2023 Via Roma Possa essere inserita Santa Croce È stato fatto Ma non concluso Attenzione Un intervento Importante Per la viabilità Grazie al coinvolgimento Della provincia Abbiamo riscontrato Dati alla mano Con anche strumentazione Montata spesso Durante l'anno In quella zona Che la velocità È diminuita E questa è una cosa Importantissima Che i cittadini Che ci chiedevano Però ecco Sappiate che Quell'intervento Non è finito Perché Quella Diciamo Ristringimenti Di carreggiata Importanti Fatti Diciamo Manufatti in plastica Un po' provvisoria Adesso verranno sostituiti Invece Con una implementazione Più importante Più strutturata Insomma Sono in contatto Con la provincia Anche per questa cosa Via Vittorio Veneto Non ho capito Se parliamo Dei lampioni Piuttosto che Del marciapiede Entrambi Entrambi Allora Per quanto riguarda I lampioni Se uscite di casa Insomma Vedete già Il fatto Che in buona parte Di via Vittorio Veneto C'è stata Questa bella implementazione Insomma Andando a Cerasa O arrivando Insomma Vedete Su via Vittorio Veneto Questo bellissimo Colpo d'occhio Mi permetto di dire Insomma Sono state sostituite Tutte le palle arancione Con queste belle Lanternine Di ghisa Con la piastrina Con la piastrina Lente Via Vittorio Veneto Ha già Dei marciapiedi Io credo Che il cittadino Insomma Faccia riferimento A quelli Che già Sono esistenti Che però Hanno bisogno O di un rifacimento O di una manutenzione Questa cosa Se rifacimento O se manutenzione La valuteremo Nei prossimi giorni Con l'ufficio Teclico Buonasera Volevamo fare i complimenti Al sindaco di San Costanzo Per l'apertura All'ascolto E al confronto Con tutti i cittadini Quindi vedo Insomma Che piace molto Questa apertura Anche alla città Andiamo avanti Con quelle foto Abbiamo una foto Che riguarda Un parco Vediamo Se riusciamo A recuperarla Così Poi passiamo Anche al mondo Delle scuole Perché Questo è uno dei giochi Che abbiamo scelto Per il nuovo parco giochi Che faremo A San Costanzo Nei pressi Dello stadio Nei pressi Insomma Di questa area sportiva Che è diventata Ancora più importante Grazie al nuovo Campetto in sintetico Che abbiamo inaugurato Nel dicembre del 2019 Ed è un nuovo parco Un totalmente nuovo Dove ecco Questo è un altro giochino Che abbiamo scelto Abbiamo cercato Dei giochi Un po' nuovi Un po' innovativi Per questi nostri Piccoli concittadini A cui teniamo tantissimo E dicevamo Un'attenzione Anche nei confronti Del mondo della scuola Pensiamo ai lavori Alla primaria Sì Sì Assolutamente Sono stati fatti Dei lavori Molto importanti Richiesti Richiesti Dalle maestre Richiesti dalla preside Insomma Per delle situazioni Che andavano gestite Anche se non Diciamo Obbligatorie Perché la nostra È una scuola Nuova Dei primi anni 80 Che ha sempre avuto Delle ristrutturazioni Tutte a norme Tutte in sicurezza Però ecco Siamo riusciti Ad andare incontro Alle esigenze In modo particolare Di una famiglia Per mettere ancora più In sicurezza La vita scolastica Del proprio figlio E questo insomma Fa sempre piacere Quando si riescono A trovare Ecco Nelle pieghe Del bilancio Dei fondi Che poi Possano Accontentare Questa Ecco Anche la vita scolastica Di qualcuno Che ha bisogno Di un po' più di aiuto Diciamo così Certo Abbiamo un argomento Passiamo al rischio Idrogeologico Avete interventi Sì Assolutamente Sì Con un Insomma Con un Un investimento E parlo sempre Di quadro economico Finale Di un milione Duecentomila euro Andremo a ridurre Il rischio Idrogeologico Per la messa In sicurezza E il consolidamento Della zona Residenziale Artigianale E colle mare Questo È un progetto Che avevamo Nel cassetto Da tanti anni Fatto Dalla precedente giunta Ringrazio Questo proposito Il sindaco Pedinelli Che me l'ha fatto Trovare pronto Nel cassetto Perché appena è stato Possibile L'abbiamo presentato Al ministero Degli interni L'anno scorso Abbiamo avuto La buona notizia E tra un paio Di mesi Inizieranno I lavori Novecento Novantamila euro Circa Arrivano Dallo Stato Il resto Dal bilancio Comunale Però è una cosa Parlavo di sicurezza Insomma Un 2023 All'insegna Della messa In sicurezza Del territorio E questo È veramente importante E anche del circuito Cicloturistico Visto che siamo Nella conda Della messa in sicurezza Questa è una cosa A cui tengo molto Anche questa è una cosa È una cosa Che era Nel cassetto Da tanto tempo Ma grazie alla collaborazione Con altri sei comuni E grazie Ai finanziamenti In parte Anche ai finanziamenti Del PSL Gal Flaminia Cesano Con una misura Specifica Avremo La riqualificazione La messa in sicurezza Del circuito cicloturistico Con anche la realizzazione Di un'area di sosta Questa è la tavola Del percorso È un intervento Di 95.000 euro E come dicevo È un percorso Cicloturistico Ma anche pedonale Che parte Diciamo un po' Da San Costanzo Prendendo via Tufi È un percorso Di 11,3 km E pensate un po' Si collega In località Piaggiolino Con il comune Di Tre Castelli In provincia di Ancona Che parte Di questo progetto Insieme anche A Corinaldo Un altro comune Della provincia di Ancona Mondavio San Lorenzo In campo Monteporzio Fratterosa E naturalmente San Costanzo Quindi abbiamo visto Che il cicloturismo Soprattutto con le mountain bike Ma grazie anche All'arrivo di queste Biciclette a pedalata assistita Stanno creando Veramente un indotto turistico Nuovo Spesso legato anche All'enoturismo E a San Costanzo Siamo fortunati Ad avere Tre cantine di eccellenza E quindi su questo Abbiamo lavorato Continuiamo a lavorare Perché insomma San Costanzo Possa Già lo vediamo Il sabato e la domenica Possa essere invasa Dai ciclisti Perché insomma È un turismo lento Che ci piace molto Turismo che può essere Promosso Incentivato Anche con la necropoli Picena Anche in questo senso Ci sono dei bei progetti Esatto Quella che vedete È la Dama del Flabello La tomba numero 100 L'anno scorso L'anno scorso In collaborazione Con la soprintendenza Archeologica Delle Marche Abbiamo presentato Confezionato Un progetto Di circa 120 mila euro Presentato Al ministero Della cultura Con il bando cultura Che insomma Non è andata a buon fine Però è un progetto Su cui abbiamo messo la testa E quando si fanno progetti Poi Si hanno sempre Delle buone cose Da tirar fuori dal cassetto Questa è la Dama del Flabello Perché Direttore devi sapere Che San Costanzo È sede di una importantissima Necropoli Picena Negli ultimi anni Mentre Siamo andati a fare i lavori Di ampliamento Del cimitero Del capoluogo Guarda caso Abbiamo scoperto Che era anche Sede del cimitero Necropoli Dei nostri Antichi Predecessori Piceni Questo importantissimo popolo E pensi che abbiamo scavato Oltre 80 tombe Con un investimento economico Tutto a carico Del bilancio comunale Che però Ci ha consentito Di fare queste bellissime sorprese Quello che la Dama del Flabello Della tomba 100 Stringe al collo Può sembrare un ventaglio In realtà È un Manufatto Ornamentale Con delle pietre di ambra Ed altre pietre preziose Che sono oggetto Proprio di questo progetto Di ristruttura Di ristrutturazione Che poi Insomma Troverà spazio Dovrà trovare spazio All'interno Del museo Dei Piceni Di San Costanzo Nel progetto Chiaramente C'è anche L'allestimento museale C'è la digitalizzazione C'è uno storytelling Che parla Di questa principessa Ecco Noi siamo pronti A farvela vedere Speriamo che qualcuno Ci aiuti Insomma A finanziare E questo progetto È possibile reperire Anche in questo caso Fondi europei Teniamo sempre L'antenna dritta Teniamo sempre L'antenna dritta Anche nella nuova Programmazione Dei fondi europei Sia diretti Che insomma Per il tramite Della regione Abito a Ponte Sasso E quando piove Molto Il nostro territorio Si allaga Il paese di San Costanzo A valle riversa Molta acqua Che si aggiunge A quella dell'autostrada E crea grosse quantità Di acqua E di conseguenza Anche allagamenti Nelle case È possibile Chiede il telespettatore O telespettatrice Creare dei laghi artificiali Per la raccolta Delle acque piovane È fattibile Allora L'ascoltatore È su Ponte Sasso Noi abbiamo iniziato Un'interlocuzione Con il comune di Mondolfo Prima parlavamo Di strada di mezzo Siamo lì Siamo veramente A pochi metri Da Ponte Sasso Il tema c'è Il tema è importante Perché insomma A seguito dei lavori Della terza corsia Insomma abbiamo visto Che la reggimentazione Delle acque Non ha funzionato Parliamo di lavori Fatti tantissimi anni fa Quindi il comune Di Mondolfo Sta mettendo mano A un progetto Di reggimentazione Delle acque Che probabilmente Necessiteranno Anche di alcune vasche Di alcune casse Di colmata E che vedrà anche La compartecipazione Del comune Di San Costanzo Quindi questo è un tema Che stiamo Tenendo in considerazione Per chi non conferisce Rifiuti organici Avendo una regolare Compostiera domestica Sono previsti Degli sconti Sulla Tari? Sono previsti Degli sconti Già sono previsti Al 5% Nel nostro regolamento Della Tari Con l'assessore Giraldi Stiamo cercando Di capire Se poter aumentare Un po' Questa scontistica Sappiate però Che insomma La compostiera Va tenuta bene Grazie anche Alla collaborazione Con gli ispettori Ambientali di ASE Poi quest'anno Almeno una volta All'anno Gli ispettori ambientali Verranno a controllare Diciamo Il buon uso Di questa compostiera Si chiede invece Qualche controllo In più Non so se Sul fronte di sicurezza O rifiuti In via Strada San Costanzo Località Cerasa E ancora complimenti Chiedono invece Un parcheggio A solfanuccio Basso Rientra Nei vostri Piani o progetti Sindaco So che in agenda Nella mia agenda Un incontro con i cittadini Di solfanuccio Basso Che nelle scorse ore Si sono incontrati Con l'assessore Giraldi Per quanto riguarda Il tema dei rifiuti E ho promesso Che si incontreranno Con me anche Su questo tema Quindi Attendo l'incontro Con questi cittadini Che so che stanno aspettando Per poter Valutare questa cosa Sapendo che comunque A solfanuccio Sono previsti Dei parcheggi Non tanto a solfanuccio Basso ma facendo Qualche metro Più in su Per insomma Nel momento in cui Riusciremo a terminare In marciapiedi a solfanuccio È presente anche Un parcheggio Non molto distante Da solfanuccio Basso Ci dicono anche Che a San Fortunato C'è che ha portato Il nipote a prendere Il pullman E passando sulle strisce Nessuno si ferma Ci vorrebbe Un vigile Però insomma Lanciamo un appello Anche a tutti i residenti E non solo Per rispettare Il codice della strada L'allestimento Di un nuovo parco gioco Nei pressi del campo Sportivo sintetico È una bellissima notizia Grazie sindaco Che programmi ha invece Per l'arco di Cerasa Transennato Sì beh L'arco di Cerasa E poi anche il problema Dei piccioni dicono L'arco di Cerasa Transennato È così Perché Si è notata Diciamo Una leggera Flessione Del tetto Di quell'arco Che non è possibile Raggiungere Da nessuna stanza Quindi bisogna proprio Boccare il tetto Ed intervenire Nel In questo momento Ci sono tantissime Aziende edili Impegnate In tanti lavori Stiamo cercando Un'azienda edile Chiaramente Tramite l'ufficio tecnico Che possa intervenire Nel più breve tempo possibile Ma nel frattempo Abbiamo messo In sicurezza L'arco Sicuramente È un lavoro Che è sotto l'attenzione È un futuro lavoro Che è all'attenzione Non solo dell'amministrazione Ma anche Dell'ufficio tecnico Sono felice Che il 22 Forse era il 23 di dicembre Sono riuscito comunque Ad aprire la viabilità Di piazza 4 novembre Di Cerasa Perché come si ricorderanno bene I concittadini Di questa bella frazione In quel momento Avevo proprio Con ordinanza sindacale Chiuso all'ingresso Degli autoveicoli La piazza La piazzetta del Castello Non ha più parcheggi Per i residenti Per poter Lasciare posto Alle panchine Inutilizzate In ogni stagione Non avranno parcheggi La piazza La nuovissima piazza San Pio Da Pietralcina Come ho già detto I residenti Che ho incontrato Un paio di volte Prima Durante Dopo I lavori Che hanno portato A un bellissimo Intervento Di ristrutturazione Di quella piazza Che è veramente Bellissima Lì non sarà consentito Parcheggiare le auto Vorrei farle vedere Ma lei La conosce benissimo Più che altro Alla comunità Un'altra foto Parlavamo All'inizio Proprio della diretta Dei tanti volontari Delle tante persone Che si spendono Per la comunità Di San Costanzo E non solo In questo caso Sì Una foto Una foto bella Una foto importante Una foto che è stata Scattata A Cantiano Pochi giorni dopo L'alluvione di settembre Questa Quelli che vedete In foto Insomma Sono un po' I nostri angeli Gli angeli Della protezione civile Del gruppo CVT Di San Costanzo Di cui Ho l'onore Di far parte E che Da quest'anno Insomma Vedrà Vedrà attivata Anche una convenzione Con loro Il comune di San Costanzo In queste ore Sta predisponendo Proprio una convenzione Che prevede anche Un contributo Ma soprattutto A prescindere Dal lato economico Prevede una grande Collaborazione Di questi volontari Con i loro mezzi Con la loro Professionalità Ogni qual volta Ce ne sarà bisogno E abbiamo visto Insomma Quanto è stato fatto A Cantiano I nostri volontari Sono andati anche A Pianello di Ostra Qualcuno Ha partecipato Anche Ha fatto parte Anche un po' Dell'ufficio tecnico Del COC Del comune di Cantiano Di questo sono Particolarmente Orgogliose Quindi sì Questa è una bella foto Che racconta Del tessuto Del bellissimo Tessuto sociale Che c'è A San Costanzo Che c'è Nella nostra comunità Questa è una Delle tante associazioni Che si mettono Tutti i giorni A disposizione Per Insomma Rendere Più bello Più vivibile Darci da fare Per il nostro paese Noi abbiamo Oltre 20 associazioni Di volontariato 20 associazioni Culturali In queste ci mettono Anche le associazioni Sportive Che fanno Un grandissimo Lavoro per i ragazzi E il vostro piano Di protezione civile È stato aggiornato? Il nostro piano Di protezione civile È in corso di aggiornamento Con una determina Del responsabile Di fine dicembre Abbiamo dato In carico Allo studio Che qualche anno fa Ci aveva già Già fatto Insomma Il piano Per poterlo aggiornare Questo in collaborazione Anche con i volontari Di protezione civile Non manca molto Ma insomma Io sono sempre in contatto Con la protezione civile regionale Essendo insomma Il primo responsabile Della protezione civile Del mio comune E in un recente incontro Fatto Alla fine Alla fine di dicembre Insomma Abbiamo visto Ecco che non siamo Proprio La bandierina rossa Da questo punto di vista Perché comunque sia Un piano Comunale Di protezione civile Ce l'abbiamo E adesso va aggiornato Anche Con le nuove Recentissime linee guida Che sono state emanate Lavorate anche sul PRG O sul piano urbanistico Sì Come sanno i cittadini Insomma Che hanno partecipato Ai nostri incontri Questo è l'anno anche Dell'aggiornamento Dello strumento urbanistico È in partenza L'aggiornamento Dello strumento urbanistico E contiamo di concludere Questo percorso Speriamo Entro la fine dell'anno Perché Quando si aggiorna Lo strumento urbanistico Poi c'è anche un momento Di pubblicità Verso tutta la popolazione Verso i professionisti E un passaggio anche Con la provincia di Pesaro Urbino Anche per semplificare Un po' Ma guarda Ti dico Le maggiori richieste Che ci arrivano Giustissime Sacro sante Arrivano da quei cittadini Che in questo momento Si trovano ad avere Diciamo I loro terreni Con la possibilità Di urbanizzarli Di costruire E qui chiaramente Si pagano Delle tasse Importanti Le maggiori richieste Che abbiamo E quelle Insomma Di farle tornare Agricole Queste aree E ci stiamo impegnando Per fare questo Allora Le chiedono intanto Per il cimitero Quanto tempo ci vorrà Per riaprirlo Perché è una parte Chiusa Si Proprio Questa mattina Il responsabile Dell'ufficio tecnico L'architetto Carbonari Insomma Mi ha dato Indicazioni Che Nei prossimi giorni Farà dei sopraluoghi Con un paio di ditte Che si sono Resi disponibili A lavorare A fare dei preventivi E quindi Anche il cimitero Del capoluogo Verrà presto Risistemato Perché Perché A seguito Di una scossa Di terremoto Che è avvenuta La mattina Dell'8 dicembre Si sono staccati Delle lastre Di marmo E quindi In questo momento È transennata Una parte Del nuovo cimitero Di San Costanzo Velocemente Perché siamo Quasi in chiusura E vorrei sapere Anche degli eventi 2023 I parcheggi In zona Colle Le chiedono Cosa pensate Di fare percorso Mattioti Dove ci sono Molte case vecchie Da vendere Affittare Senza successo E il corso In 50 anni Un po' Spopolato E poi Le chiedevano Anche una collaborazione Con il sindaco Di Fano E di Terre Roveresche Adesso cerco Di ritrovare Il messaggio Perché sono Intanto leggo questo Vorrei ringraziare Sindaco La sua giunta Per l'ottima iniziativa Pomeriggi insieme Quindi regalare Un sorriso Grattifica A tutti noi Diana Intanto se mi vuole rispondere Per i parcheggi In zona Colle Allora Parcheggi In zona Colle Io sinceramente Non credo Di aver capito La domanda Parcheggi In zona Colle In zona Colle di Cerasa Probabilmente Il tema Mi è nuovo Sono sincero Magari Invito il cittadino Che ci ha fatto La domanda Insomma Di prendere Appuntamento Con me Insomma Nei prossimi giorni Tramite il mio ufficio Di segreteria 0721 951 223 Poi ecco Si può prendere Anche un caffè E' un tema importante E' un tema importante A tantissimi centri storici Ecco Non solo Corso Matteotti A tantissimi centri storici Dei piccoli comuni Che si stanno spopolando Insomma Stanno spopolando Anche proprio A livello Di abitanti Era sulle prime pagine Dei giornali Anche in queste ore Di questi indici Ed è la stessa ANCI L'associazione nazionale Dei comuni italiani Proprio con una conferenza stampa Fatta pochi giorni fa Che si sta chiedendo Anche in collaborazione Con le università d'Italia Come poter fronteggiare Questa cosa Io mi metto nei panni Insomma Di chi ha O di chi ha Ereditato Queste case Così belle Ma così grandi E così vecchie In Corso Matteotti Ecco Cercheremo Insomma Di capire insieme Quale può essere la strada Ma una cosa va detta Insomma Quelli sono degli edifici privati Il comune potrà intervenire Su una Ecco Tassazione Che vada un po' Incontro Magari A determinati Tipi di esigenze O nel momento In cui Verranno fatti Dei lavori O verranno messe In sicurezza Quelle facciate Anche Di poter intervenire Che ne so Sul costo Del Suolo pubblico Per allestire i ponteggi Se ne può parlare insieme Io sono sempre disponibile E dicevo Le chiedono Una possibile collaborazione Con i comuni Di Fano e Terre Roveresche Per sistemare La strada provinciale E quindi magari Per fare un'azione comune Per fare un'azione comune Insieme alla provincia Di Pesaro Urbino Sicuramente Allora Questa cosa Se si tratta Insomma Ecco Della Soprattutto Della strada C'è una compartecipazione Innanzitutto Festa dei luoghi Delle genti a Cerasa Sagra gastronomica Cerasa Sicuramente sono riconfermate E poi E poi E poi chiaramente Ecco La stagione La stagione di Scena Riddens Sta continuando Sta continuando Anche la stagione All'interno Della biblioteca O Contezza Che con Rossini Opera Festival Riusciremo a riavere Un evento Anche quest'estate Fra dieci giorni Ci incontreremo Con il direttore Di Passaggi Festival Per cercare Di riconfermare Anche quest'anno Insomma Almeno Quella due giorni Che ci siamo goduti Quest'estate Il comune di San Costanzo Vuol fare la sua parte Lo vuol fare anche di più E meglio Perché è un evento Veramente importante E centrale Poi ecco Le tantissime Iniziative estive Che organizziamo Insieme anche Alle associazioni Che sono Di carattere teatrale Di carattere cinematografico Praticamente Dai primi di giugno Fino alla fine di agosto Tutte le settimane C'è qualche evento A volte anche due eventi Durante la stessa settimana Bello Una domanda al volo Per il lavatoio storico Perché ci sono arrivati Diversi messaggi Guardi direttore Su questo voglio Voglio essere molto chiaro Innanzitutto Dicendo che È un manufatto storico È una zona di San Costanzo Che sta a cuore A questa amministrazione Comunale È stato anche posto All'attenzione Con una interrogazione In consiglio comunale A cui ho risposto Ho risposto compiutamente Già più di un anno fa Innanzitutto La manutenzione Che deve essere fatta lì Come deve essere fatta In qualsiasi altra parte Del paese Quindi Il taglio dell'erba E quant'altro Ma voglio essere sincero Diciamo Questa è una Di quegli interventi Che non fanno parte Del programma elettorale Di questa amministrazione comunale Con questo però Non voglio dire Che non è All'attenzione Di questa amministrazione comunale Di questa maggioranza Tant'è che Anche qui Teniamo Le antenne dritte Rispetto a possibili bandi Anche Più locali Mi riferisco In modo particolare A quelli Del Gal Flaminia Cesano Con cui presto ci incontreremo Perché Se Si riuscisse Insomma Se riusciamo Sicuramente Quello È un posto Che tutti abbiamo nel cuore E che vogliamo Sicuramente Ristrutturare Però io Devo essere sincero La promessa Non la posso fare Che entro la fine Di questo mandato È Quello è un manufatto Che riusciremo a sistemare Perché noi Siamo stati eletti Con un programma elettorale Che come dicevo prima Ha raggiunto già un buon livello Di Cantierabilità Siamo arrivati quasi al 65% Il lavatoio In questo programma Non era presente Però se arriveranno Diciamo Finanziamenti ad hoc Il comune di San Costanzo Metterà la sua parte Sia per la progettazione Ma anche poi per i lavori Altrimenti andrà al prossimo mandato Andrà al prossimo mandato Il 2024 Vogliamo salutarci Sindaco Con la foto Della squadra di governo Che appunto insieme a lei Ha permesso di raggiungere Questo 65% circa E anche con un messaggio Che è arrivato poco fa Grande sindaco Siamo orgogliosi di te Io chiuderei qua Questa diretta E la ringrazio nuovamente Per essersi messo A disposizione Dei suoi concittadini Grazie direttore Grazie a tutta Fanno TV Un buon lavoro anche A questa nuova compagine Che guida Un emittente così importante Per il nostro territorio La ringrazio E speriamo anche di Riaverla presto Nei nostri studi Grazie Buona serata a lei Buona serata anche a tutti voi Un ringraziamento A chi sta dietro le quinte In regia Riccardo Sora E poi Cristiana Guerra Non ci rivediamo domani Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti